28 direi di iniziare. Va bene. Buonasera a tutti, siamo al secondo appuntamento di Storia in Corso per la presentazione delle ricerche dei dottori, dei dottorandi di ricerca di storie. Oggi avremo una sessione sempre con tre presentazioni. Intanto vorrei ringraziare tutti i partecipanti, in particolare anche la presidente della Cisco che anche oggi è con noi, il coordinatore del progetto appunto di Storia in Corso, Carmine Pinto, Gia Cagliotti e tutti quanti i coloro che parteciperanno attivamente, così come è stata l'altra volta, alla discussione, al dibattito. Oggi avremo la presentazione di tre ricerche, Giulio Francisci, Ada Alvaro e Maria Elena Cantilena. Ringrazio anche la discussant di sessione, Claudia Bernardi e vado a presentare immediatamente il primo dottorando, non prima però di avervi dato un po' le coordinate dei nostri lavori. Il dottorando avrà un massimo di 20 minuti per presentare la sua ricerca, a cui risponderà il relatore del discussant, avrà al massimo 10 minuti, quindi ci sarà l'intervento del discussant di sessione e poi le eventuali domande del pubblico. Io non darei a questa sessione massimo 15 minuti, cercherò di contingentare i tempi man mano che le richieste arrivano. A questo proposito vi ricordo che non c'è la funzione mano alzata e quindi per intervenire dovete scrivervi sulla chat. Dopodiché il dottorando avrà la possibilità di replicare così come il discussant, ma al massimo per 15 minuti. Ogni ora, diciamo in questo modo avremo svolto i lavori entro un'ora, ogni ora ci prenderemo una pausa di 5 minuti. Vado quindi a presentare il dottorando Giulio Francisci della Scuola Normale Superiore, presenta una tesi di dottorato dal titolo Diritti in Movimento, Lavoro, Migrazione e Protezione Sociale in Europa in Prospettiva Transnazionale nel 1916-1957. Il discussant è Michele Colucci, ma prima di tutto diamo la parola a Giulio Francisci. Grazie. Io proverei a condividere lo schermo se sono abilitato per... Un attimo solo. Ok. Ok. Vedete? Perfetto. Allora, grazie di nuovo per la presentazione e io inizierei per dare avvio insomma a questa breve presentazione dal titolo provvisorio della tesi che condensa in parte alcuni dei nodi di cui si occupa la ricerca. L'espressione Diritti in Movimento rimanda alla dimensione della cosiddetta portability, la portabilità dei diritti sociali, una locuzione che designa la possibilità di preservare, mantenere e trasferire i benefici acquisiti o in corso di acquisizione facendo parte di un determinato sistema nazionale di protezione sociale anche in caso di trasferimento. E in particolar modo l'espressione Diritti in Movimento rimanda, come cerca di specificare il sottotitolo, alla portabilità di quei diritti legati all'esistenza di un rapporto di lavoro, qui anche se non specificato si ragiona di lavoro salariato, quindi i diritti previsti dalla normativa sulle assicurazioni sociali e sugli assegni familiari e messi in pericolo per quanto riguarda i lavoratori migranti da quello che definirei un vero e proprio rapporto problematico fra migrazione e protezione sociale. E la problematicità di questo rapporto, non solo nell'ambito delle tutele dell'assistenziale, una problematicità già nota per l'età moderna, ma anche nel campo delle assicurazioni sociali, emerse parallelamente all'introduzione di questi schemi assicurativi contro i rischi del lavoro negli ordinamenti nazionali europei. Infatti guardando le leggi sociali introdotte a partire dall'ultimo quarto dell'ottocento in avanti, nell'Europa culla dello Stato sociale, si nota la presenza di alcuni elementi che segnalavano appunto una problematicità per il cosiddetto lavoro mobile. Per quanto riguarda le tutele basate sulla contribuzione o comunque legate a un rapporto di lavoro, a differenza come diceva di trattamenti assistenziali, solo raramente le legislazioni prevedevano un trattamento discriminatorio in base alla cittadinanza. Molto più spesso la problematica era l'interazione fra più parametri alla base delle politiche sociali, come nel caso, ad esempio, di alcune normative sull'assicurazione contro gli infortuni che impedivano al beneficiario straniero di esportare la rendita o in caso di di sua morte ai suoi familiari non residenti con lui di riceverla nel paese di origine. Infatti solo in rari casi questo diritto alla portabilità non era negata anche al cittadino. O ancora, possiamo fare l'esempio, nel caso delle normative contro l'invalidità e la vecchiaia, entrava in gioco il fattore tempo, cioè i periodi di contribuzione richiesti per la maturazione del ditta alla pensione. Nel caso di un lavoratore migrante, cioè di una figura professionale tendenzialmente caratterizzata dalla segmentazione della vita lavorativa, i periodi di contribuzione dicevo rischiavano di non essere completati in nessun contesto nazionale senza la garanzia della conservazione dei diritti in corso di acquisizione e appunto in assenza di regole chiare sulla possibilità di esportare le prestazioni anche i diritti acquisiti in caso di trasferimento erano minacciati. E per far fronte insomma a queste problematiche nasce nell'Europa all'inizio del Novecento quella che possiamo definire una diplomazia sociale a livello tanto bilaterale quanto multilaterale. E sono questioni poi non molto distanti tra noi, da noi ancora oggi, ecco, ancora oggi vengono sottoscritti trattati bilaterali, questa appunto è tratta da una pubblicazione del 2017 e la tesi vuole appunto, come posso dire, restituire profondità storica a questo processo risalendone alle origini e concentrandosi in particolare su uno studio di caso che, scusate per rumori ma qui ci sono lavori, stavo dicendo appunto su un particolare studio di caso che è quello del, che è il caso italiano, particolarmente rilevante perché l'Italia è un contesto di emigrazione, ha forti flussi continentali all'interno appunto del continente europeo per tutta la durata del periodo considerato, a differenza di altri contesti che solo in alcuni periodi condividono insomma questo status e lo Stato italiano è parte contraente di alcuni trattati bilaterali appunto quali nel periodo considerato della tesi sono sottoscritti per lo più in Europa. E appunto questa primazia europea nel campo delle assicurazioni sociali ma anche nel campo della diplomazia sociale spiega la delimitazione spaziale, territoriale che ho voluto conferire alla tesi e in qualche modo spiega anche l'approdo, il punto di arrivo della periodizzazione del 1957, quindi l'anno della Convenzione europea sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, a mio avviso appunto che è un processo, un passaggio nel processo di costruzione di una cittadinanza sociale europea ma che è a mio avviso molto debitore delle esperienze tanto bilaterali quanto multilaterali appunto maturate anche nel periodo fra le due guerre oltre che ovviamente dopo il 45. E con le multilaterali intendo in particolare i risultati della... qui appunto ho messo una piccola scansione temporale dei trattati bilaterali sottoscritti da Stato italiano con controparti appunto europei ma dicevo con livello multilaterale intendo i risultati dell'azione degli organi dell'organizzazione internazionale del lavoro, quindi appunto l'ufficio internazionale, il buono internazionale di Travai, ma il consiglio di amministrazione che poi si occupava di scrivere le questioni all'ordine del giorno delle conferenze, le conferenze internazionali del lavoro che appunto approvavano i testi, qui ho inserito i testi più specificatamente dedicati alla questione dei diritti in movimento appunto, ma poi clausole in materia di accesso degli stranieri alle telesociali erano presenti anche in altre convenzioni. E appunto l'idea di fondo è che questa ricerca, insomma la base di questa ricerca è non solo appunto come dicevo restituire profondità storica a un processo che è in parte ancora in corso, ma anche perché credo che l'unione di due campi di indagine solitamente affrontati in maniera distinta come la storia delle migrazioni e la storia delle politiche sociali possa aiutare insomma a fornire un contributo alla comprensione dell'interazione appunto fra questi due, questi due fenomeni, quindi il fenomeno migratorio e le politiche sociali in due sensi. Innanzitutto sposando la concettualizzazione dei migranti come attori mobili in un processo di transnazionale, del processo di transnazionalizzazione, studiare appunto la diffusione, il ruolo dei migranti nella diffusione, nella omogenizzazione delle tutele sociali. E appunto il continente europeo è un laboratorio in questo senso, ma anche studiare gli effetti del fenomeno migratorio sulla quella che definirei la complessa e sfuggente nozione di diritti sociali. In qualche modo capire appunto quanto la diplomazia sociale bilaterale e multilaterale ha prodotto uno sganciamento della nozione di diritti sociali da una cornice di riferimento, quale quello dell'inserimento nella comunità politica, quindi il possesso della cittadinanza, o quanto invece abbia rafforzato questa logica, quanto abbia facilitato il percorso verso la nozione di diritti della persona, o abbia raffermato invece un legame con il territorio o con altre, o appunto con la stessa cittadinanza. E parlando del come insomma vorrei, del come insomma la ricerca si esplica insomma su cosa si basa, partirei quindi sulle fonti, appunto le fonti, partirei parlando delle fonti a livello multilaterale, quindi in particolare quelle del buon antinassone di travaglia, che a mio avviso è particolarmente interessante sia come osservatorio sia come attore, insomma questa sua duplice funzione, quindi osservatorio come studio insomma delle legislazioni e delle pratiche, anche delle sottoscrizioni di trattati bilaterali, ma anche come attore in quanto proponente di soluzioni, di progetti. Quindi la documentazione archivistica è conservata a Ginevra, che è di vario tipo, quindi corrispondenza, note a uso interno, progetti. Anche una tipologia di fonte non molto diffusa, non molto presente, ma comunque significativa, come le lettere che singoli migranti o organizzazioni sindacali destinavano appunto all'interno nazionale trovare, ma anche la documentazione prodotta dagli altri organi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, quindi resoconti della Conferenza Internazionale del Lavoro e quelli del Consiglio di Amministrazione. Ovviamente poi un altro tipo, la tesi si basa sulla consultazione degli archivi nazionali, in primo luogo in Italia, quindi l'archivio centrale dello Stato, fondo presidenza del Consiglio di Ministri e per il secondo dopoguerra anche il fondo del Ministero del Lavoro, che diventa, come sappiamo, il coprotagonista del sforzo diplomatico italiano insieme al Ministero Affari Esteri, in campo sociale, e l'archivio storico diplomatico del Ministero Affari Esteri, in particolare i fondi Commissariato Generale dell'Immigrazione, rappresentanza italiana in Francia, ufficio trattati e affari politici. L'intenzione è quella di integrare questa documentazione con i fondi conservati in altri paesi, penso agli archivi. La Francia è la principale interlocutrice della diplomazia italiana in campo sociale, quindi l'archivio nazionale, l'archivio del Ministero des Affaires Esteri at bible et AFR, il Sfonte des Archiupautomatiques des Nantes, ma anche, ad esempio, gli archivi federali svizzeri, la Confederazione Helvetica, come appunto, in seguito dirò, un altro grande interlocutore in questa storia. Per studiare però l'applicazione degli accordi, tuttavia sembra necessaria adoperare anche altre tipologie di fonti meno ufficiali. Un esempio è costituito da quelle della società umanitaria, tanto archivistiche quanto edite a stampa, come la corrispondenza settimanale dell'Ufficio Migrazione Centrale dei segretariati laici e per il secondo dopoguerra il bollettino quindicinale delle migrazioni, una pubblicazione periodica particolarmente ricca di articoli di analisi ma anche di brevi schede riportanti dati, notizie e testimonianze. Rimarendo nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale anche le interrogazioni parlamentari e i materiali raccolti nell'archivio storico CGL legati all'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza, l'Inca, forniscono elementi utili come anche le pubblicazioni edite a stampa, ad esempio la rivista all'assistenza sociale, che come è stato già notato in sede storiografica, dal 1947 al 1948, in poi l'attenzione delle sinistre si spostò dalla dimensione quantitativa a quella qualitativa del fenomeno migratorio, monitorando attentamente le condizioni di lavoro ma anche di accesso ai benefici sociali dei lavoratori migranti. Cito ad esempio che a metà degli anni 50 Giuseppe Di Vittorio e altri firmarono una proposta di legge volta a far risultare ai fini previdenziali il lavoro prestato all'estero come il lavoro prestato in Italia, un segno quindi frutto anche delle critiche che erano mosse in quel periodo alla sottoscrizione di accordi bilaterali e alla scarsa applicazione in alcuni casi. E passando appunto a, avvicinandomi alla conclusione e provendo a descrivere un po' i primi risultati anche del lavoro di tesi, vorrei dire che appunto la tesi rispetto alla formulazione presentata nel paper, appunto come si diceva lunedì scorsa, appunto di qualche mese fa, quindi cosa è cambiato, vuole eseguire un approccio cronologico rispetto a uno tematico che permette di evidenziare maggiormente i principali snodi. Dopo un primo capitolo introduttivo sul periodo pre Grande Guerra, nel quale si rintracciano le radici della diplomazia sociale, tanto bilaterale quanto multilaterale, la tesi muove, prende origine insomma dalla Grande Guerra, che mette in mostra la fragilità dei diritti sociali dei lavoratori migranti, penso ad esempio alle sospensioni delle rendite a causa dei paesi nemici, a causa dello stato di guerra, ma allo stesso tempo ha una funzione di impulso, tanto che si può ragionare anche su un nesso World for Welfare, non solo all'interno dei singoli paesi, ma anche in ottica internazionale. Ad esempio il caso italiano, non al caso si parte dal 16, perché nel 1916 l'alto funzionario del CGE, Giuseppe De Michelis e il sottosegretario Alberto Ma, non so cos'è il francese Alberto Ma, siglano un accordo per il reclutamento della mano d'opera che in qualche modo dà avvio a una pratica che sarà seguita in tutto questo periodo di legare le questioni relative al riconoscimento dei diritti con quelle relative al reclutamento della mano d'opera. E questo accordo è il logico punto di partenza dei negoziati che porteranno nel 1919 al Trattato di Lavoro Franco-Italiano, un accordo particolarmente importante perché regola al tempo stesso le due materie che diceva appunto reclutamento e diritti sociali, rappresenta un modello negli anni successivi e introduce ad esempio il concetto di lo strumento della totalizzazione dei periodi di versamento, che è lo strumento con cui appunto si supera l'ostacolo temporale di cui parlavo prima per quanto riguarda le normative pensionistiche. Ma appunto grazie alla consultazione degli archivi federali, Svizzera si nota come già nel primo dopoguerra, che è noto ovviamente per il secondo dopoguerra, ma per il primo o meno, come lo sforzo della diplomazia italiana che si dirige appunto anche verso la Confederazione Albetica, in quale si cerca appunto di ottenere migliori condizioni per i lavoratori migranti italiani anche dal punto di vista delle assicurazioni sociali, l'assicurazione contro gli infortuni appunto, nel caso albetico. Negoziati che non portano poi a un accordo, a un vero e proprio trattato di lavoro, viene discusso fino al 1924, perché c'è il tema dell'opposizione fra reciprocità formale e reciprocità sostanziale, appunto dal punto di vista Svizzero viene imputata una scarsa consistenza delle prestazioni italiane rispetto a quelle elvetiche. Si apre quindi il tema anche dell'equivalenza in qualche modo fra i sistemi di protezione sociale, quindi l'azione della migrazione nello sviluppo delle legislazioni sociali. Questo è un tema che ricorre nella storia italiana, tant'è che si può, a mio avviso, anche ragionare sull'emigrazione come uno dei tanti stimoli alla base poi dello sviluppo della legislazione sociale. Ma in quel 1924 iniziano anche i lavori nell'Organizzazione Internazionale del Lavoro per la Convenzione sull'eguaglianza di trattamento in materia di assicurazione contro gli infortuni, introdotta da un tema che viene introdotto da un riformatore sociale, anche in questo si esplica la prospettiva transnazionale scelta dalla tesi, quindi l'importanza delle reti dei riformatori sociali, ma anche dei sindacati. Faccio notare, ad esempio, che nel 1928 una federazione sindacale internazionale che scrive al Bureau Internazionale dei Travai e sollecitando un intervento e un'azione in merito appunto alla conservazione dei diritti alla pensione. E appunto le due convenzioni del 25 e del 35 sono i due grandi risultati della diplomazia sociale multilaterale nel periodo tra le due guerre, che hanno però esiti diversi. Quella del 25... Ricordo che ha tre minuti, eh? Sì, sì, sto concludendo. Concludo subito. Dicevo appunto che quella del 25 ha un notevole successo perché ottiene molte ratifiche e in alcuni contesti, ad esempio, anche venendo ratificata dalla Svizzera e dall'Italia, consenta agli immigranti italiani di beneficiare appienamente delle tutele pur in assenza di un trattato di reciprocità fra i due paesi, perché si sostituisce in qualche modo. Quella del 35, molto meno anche perché dà luogo a una serie di discussioni fra i paesi di immigrazione e di immigrazione, su questo limite ci si può tornare, tant'è che poi nel 47, dopo la guerra, Stefano Giù, appunto, un esperto in materia sociale italiana, riproporrà la questione della conservazione dei diritti alla pensione nell'Assemblea dell'Associazione Internazionale di Sicurezza Sociale. Anche queste convenzioni, comunque, prevedono delle limitazioni, che è la cosiddetta clausola limitativa per renderle più approvabili in qualche modo, ovvero prevedere che il regime si applichi soltanto ai cittadini dei paesi che hanno ratificato la convenzione e quindi hanno introdotto quel determinato programma sociale. In qualche modo, quindi, vediamo che la cittadinanza è un parametro estremamente forte che continua e continua anche successivamente e la tesi, appunto, mette in luce, cerca di mettere in luce questo aspetto e di vedere quanto, però, allo stesso tempo, si affermi questa portabilità dei diritti sociali che è uno degli strumenti, allora come oggi, per facilitare anche il fenomeno migratorio e perché anche in un'ottica, appunto, internazionale come quella del B1 nazionale Travalle che negli stessi anni si occupa di regolamentazione del fenomeno migratorio e aspira a una regolamentazione che assicuri, insomma, lo svolgimento, appunto, delle migrazioni ritenute fondamentali dal punto di vista economico. Io qui concludo, visto che avevo finito l'usato del tempo, ringrazio per l'attenzione. Grazie a lei, è stata perfettamente nei tempi, mi dispiace averla sollecitata, ma va benissimo così. La ringrazio per questa, per l'esposizione della sua tesi, del suo argomento di tesi che è molto interessante in questa mettere in relazione migrazione e diritti e storia, diritti dei migranti e le politiche sociali in un'ottica transnazionale, anche in questa idea della portabilità dei diritti sociali. e do la parola al discussant, a Michele Colucci, dell'Istituto di Studi della Società del Mediterraneo, l'Istituto CNR, che è uno, diciamo, che ha scritto di queste cose e quindi ha di che dire. Prego, Michele. Allora, buonasera, grazie per questo invito, anche per l'organizzazione che mi sembra molto rigorosa e anche per, insomma, la tenacia con cui la società porta avanti questo progetto di storia in corso che è veramente una grande risorsa, è sempre molto stimolante, ho partecipato anche in passato e devo dire davvero è un'ottima iniziativa. Allora, la ricerca che ci ha presentato Francesci è effettivamente un ottimo punto di svolta nella storiografia che si occupa delle migrazioni nella parte centrale e nella prima, seconda, a metà del Novecento, ma è un punto di svolta perché iniziamo proprio dalle questioni metodologiche, dalle questioni disciplinari, è una ricerca che si pone, come ha detto giustamente lui, all'inizio, al confine di diversi approcci che, se intrecciati, sono tutti molto fecondi e che servono non solo a studiare le migrazioni, ma servono a capire una serie di passaggi cruciali nella storia dell'età contemporanea, nella storia italiana, nella storia europea e direi in generale a livello globale. Quindi questa è la prima grande caratteristica che vorrei sottolineare di questa proposta di Francisci. Qui siamo dentro uno scenario in cui si vanno a intrecciare la storia dei movimenti di popolazione, la storia delle politiche sociali, la storia delle relazioni internazionali e la storia delle istituzioni, le istituzioni sia quelle nazionali sia quelle sovranazionali che, come avete sentito, nella relazione conoscono proprio in questi anni una enorme crescita, una crescita di influenza, una crescita di protagonismo politico e davvero rappresentano probabilmente nella temperie tra le due guerre mondiali un attore assolutamente nuovo. Gli studi recenti sull'organizzazione internazionale del lavoro hanno fatto luce, insomma, proprio a partire dal centenario sulla novità di questa organizzazione, ma direi che il tema si deve estendere anche ad altre esperienze. Il nodo del contendere del percorso che ci propone Francisci è la contesa tra la territorializzazione dei diritti e la possibilità che esista una tutela che superi le frontiere nazionali. Attenzione, è un tema decisivo, non soltanto per questo periodo storico, ma è un tema che se lo trasliamo anche ad altri ambiti della storia dell'età contemporanea, si può facilmente individuare come un tema cruciale nelle relazioni internazionali e non solo. Quindi, devo dire, ci aiuta moltissimo questo profilo a capire che cos'è anche la storia direi delle cittadinanze e la storia anche dei rapporti tra Stato e territorio, tra Stati nazionali e territorio di quanto questa storia cambi moltissimo in anni, tra l'altro, in cui i confini nazionali sono oggetto di contese sanguinarie. Ecco, questa è anche una caratteristica importante della periodizzazione che ci propone Francesci. Questa è la terza novità che vorrei sottolineare di questo lavoro. Una cronologia e una periodizzazione che inizia nel 1916 e finisce nel 1957. Quindi siamo dentro uno scenario cadenzato da una serie di tappe che non sono proprio quelle usuali con le quali viene solitamente ricostruita insomma anche la successione degli eventi per quanto riguarda la storia europea e questo, devo dire, è un profilo molto coraggioso insomma da parte di Francesci e arrivare fino al 1957 e soprattutto iniziare nel cuore la prima guerra mondiale effettivamente ci aiuta ci aiuta molto diciamo a leggere in forma più matura insomma queste queste continuità insomma nel processo della storia dell'Europa contemporanea. Allora io mi limito a dare qualche suggerimento al dottorando e a porre sul tappeto un po' di questioni che a mio avviso dentro questa rilettura di questa stagione storica devono un po' emergere forse con un po' più di forza con un po' più di anche di insistenza che sono accennate nel paper che ho letto ma che a mio avviso vanno un po' sostenute. Allora la prima questione è la tenuta di un discorso sull'Italia e un discorso sulla prospettiva transnazionale. Qui secondo me Francisci deve fare un po' una scelta deve fare un po' una scelta e decidere se e come tenere il filtro e l'evoluzione del percorso italiano in rapporto a questi grandi movimenti internazionali e se tenerlo come tenerlo. questo credo sia un problema su cui la ricerca che è in una fase già mi sembra piuttosto matura però deve ancora trovare un po' una sua collocazione. Fare una storia transnazionale a partire da un caso nazionale ci pone inevitabilmente un problema di equilibrio anche delle fonti della narrazione e della priorizzazione. Su questo segnalo un problema insomma che ho notato nell'evoluzione del suo racconto ovvero la mancanza di un'analisi rispetto al fascismo cioè siamo dentro una priorizzazione in cui c'è una storia delle relazioni internazionali una storia delle migrazioni una storia delle politiche sociali in cui esiste una questione fascismo esiste una serie di scelte che fa il regime fascista rispetto al suo posizionamento rispetto alle organizzazioni internazionali rispetto alle politiche sociali sia a livello nazionale sia a livello internazionale e esiste anche proprio nello specifico una storia di accordi migratori fatta dal regime fascista penso per esempio a quelli che forse si potrebbero citare un po' come esempio come dire anche che va in un'altra direzione in questa stagione gli accordi tra Italia e Germania nazista che poi hanno molti punti di contatto con gli accordi migratori del secondo dopo guerra quindi penso che un focus maggiore sulle scelte del regime fascista all'interno appunto di questo ripensamento anche un po' sull'equilibrio tra dimensioni nazionali e dimensioni internazionali possa essere utile insomma a capire alcuni passaggi che altrimenti rimarrebbero un po' diciamo un po' sospesi come anche se vogliamo stare sul percorso italiano la rottura la cesura decisiva dell'assemblea costituente e della costituzione repubblicana in cui queste tematiche sono affrontate sono affrontate sono discusse sapete si uniscono anche diverse commissioni a fianco diciamo alla costituente in quegli anni la commissione d'Aragona insomma una serie di luoghi in cui si discute esattamente di queste questioni a livello di politica sociale di politica internazionale proprio perché può essere interessante vedere le reazioni anche concrete che avvengono insomma tra i vari soggetti che hanno a che fare con questa vicenda io penso che un aspetto a rafforzare in questa ricerca sia scavare nella concreta ricezione da parte degli attori sociali da parte delle pratiche sociali da parte della dialettica tra movimento operaio e istituzioni e controparti datoriali di queste tutele e qui vengo a un punto che ha a che fare nello specifico con la storia delle politiche sociali e la storia dello Stato sociale per come viene studiato diciamo dal mondo delle scienze storiche e anche delle scienze sociali molto spesso ci si ferma ai modelli ci si ferma alle legislazioni e si fa più fatica a scavare nel modo con cui sono applicati questi modelli e queste legislazioni noi dobbiamo poi capire cosa succede concretamente quando viene varata una convenzione che istituisce una parità di trattamento o l'estensione dell'assicurazione sulla malattia la pensione di vecchiaia e via dicendo perché le fonti sono piene di dialettica e di tensioni che ci raccontano come questo processo poi di riconoscimento di queste tutele nazionali internazionali non è un processo semplice un esempio tra tutti che si rifà proprio al periodo tra le due guerre mondiali è quello degli italiani in Francia gli italiani in Francia soprattutto nella seconda metà degli anni trenta costruiscono una serie di battaglie in cui c'entra anche l'intreccio con l'immigrazione politica con l'antifascismo rispetto alle loro condizioni sociali e di tutela previdenziale contributiva e via dicendo e consiglio affrancisci una fonte da questo punto di vista molto interessante che è la voce degli italiani il quotidiano italiano stampato dall'Unione Popolare in Francia nella fine degli anni trenta in cui ci sono quotidianamente rubriche che raccontano il trattamento a cui venivano diciamo a cui si opponevano spesso gli immigranti italiani le loro avvertenze le loro proteste stai dicendo quindi ecco una secondo me una maggiore diciamo attenzione alle conseguenze di questi grandi snodi di questi grandi snodi che restano comunque delle acquisizioni importantissime su cui a mio avviso c'è c'è molto da da riflettere consiglio francisci la lettura di un libro appena uscito di storia diciamo del diritto del lavoro di Virginia Morosi che si chiama storie di giuristi ed emigranti un libro edito dalla ESI che apre soprattutto sulla prima metà del novecento una serie di scenari molto molto utili anche per per gli storici in generale dell'età dell'età contemporanea e soprattutto rispetto alla fase post 1945 suggerisco a francisci di muoversi anche dentro l'universo non soltanto delle tutele legislative che hanno a che fare con l'assicurazione con la vecchiaia con il lavoro ma anche l'orizzonte delle malattie professionali c'è per esempio un grande tema negli anni cinquanta sessanta del novecento che è il riconoscimento a livello globale della silicosi come malattia professionale ed è un grande tema di cui si occupano tutte le organizzazioni internazionali di cui si occupano molti sindacati di cui si occupano inevitabilmente visto il lavoro che facevano molti emigranti ed è un profilo molto ricco di storia globale rispetto al tema della salute che si può intrecciare molto bene con questa ricerca però appunto è un profilo forse un po' più concreto di riferimento perché a mio avviso c'è bisogno anche di misurarsi poi con questi casi che hanno a che fare più con anche la carne poi delle tematiche affrontate e l'impatto diciamo di queste grandi acquisizioni nei vari processi che seguiamo credo di aver esaurito il tempo a me gli spettini passo grazie Michele Colucci io aprendo il dibattito ringrazio innanzitutto ringrazio Maria Angela Palmieri cosa che non ho fatta prima per la sua speciale organizzazione e quindi do la parola come da programma alla discussant di sezione Claudia Bernardi e apro le richieste di intervento non vedo ancora nessuno Maria Angela mi conforto su questo iscritto però ecco se qualcuno vuole iscriversi a parlare lo faccio sulla chat Claudia Bernardi grazie si ringrazio soprattutto Giulio per averci dato occasione anche di riaprire questo dibattito che appunto sul solco di quello che diceva Michele mi sembra molto importante perché riprende delle tematiche ancora poco esplorate che invece sono un po' anche al centro del dibattito attuale anche sulle migrazioni in genere anche a livello globale quindi questo rapporto fra welfare e warfare o anche tra welfare e crisi che mi sembra anche un altro elemento importante nella periodizzazione che hai scelto è un po' estremamente attuale ed anche si ripercorre anche un po' la storia della migrazione nel novecento se vogliamo anche allargare lo sguardo e quindi a chi appartiene e chi merita questo welfare quali sono i criteri di assegnazione e soprattutto come viene ridistribuita questa ricchezza su alcuni punti io sono molto d'accordo in sintonia con quello che diceva Michele in particolare la questione del rapporto fra trasnazionale e i casi studio che tu hai scelto perché a un certo punto parti con questo rapporto specifico tra Italia e Francia e poi anche se citi la Svizzera si perde un po' la dimensione più ampia europea e sembra che tu ti concentri su dei casi studio quindi vorrei capire se ci sono dei casi studio qual è il criterio della scelta se è un criterio dettato dalle fonti da un interesse personale perché per esempio non vi sono altri paesi che sono stati protagonisti anche in quel periodo e nei successivi il Belgio la Germania che poi soprattutto nel secondo dopoguerra attiveranno anche delle politiche attive di reclutamento e costruiranno anche dei rapporti specifici attraverso accordi con i paesi di provenienza rispetto alle questioni previdenziali quindi su questo vorrei che ci fosse una spiegazione magari sicuramente sarà nella tesi però non risultava dal paper la seconda questione diciamo che io non sono un amante della tassonomia delle tassonomie però forse per una tesi di dottorato potrebbe molto essere abbastanza utile quindi a me mancava una sorta di tassonomia diciamo tra status lavorativo la questione dei contratti e quello giuridico vi sono varie forme di immigrazioni varie forme del lavoro che sono anche regolati da status sì giuridici ma anche di specificità dati dal contratto ecco questo rapporto tra status e contratto è anche al centro del dibattito degli storici del lavoro e sarebbe interessante articolarlo meglio e capire appunto quali sono le varie figure della migrazione e in che modo queste figure della migrazione avevano o meno dei diritti e l'ultima questione diciamo per poi lasciare spazio al dibattito anche se come dire il tuo testo apre veramente a una emeria di sollecitazioni è quella della tu utilizzi termini spazio-tempo lì mi domando piuttosto se invece non è più opportuno utilizzare il termine continuità per far riferimento alla questione temporale e dall'altro invece il rapporto tra domiciliazione e residenza quali sono i criteri attraverso la domiciliazione o la residenza di un lavoratore che attribuivano o meno altri diritti ecco questi mi sembrano le domande principali che vorrei farti e poi ecco l'ultima in corner che in realtà è una delle prime che mi saltava all'occhio rispetto alla periodizzazione cioè il termine acqua mi risulta molto chiaro forse il termine finale che tu hai assunto il cinquantasette si pone un po' in una situazione diciamo in un contesto in un intermezzo quando si aprono per esempio tutto il processo di guest worker è stato un po' richiamato con questo termine guest worker in Europa il cinquantasette è un po' un anno di mezzo perché i guest worker iniziano già prima a muoversi in Europa tra vari paesi e si prolunga poi questo flusso migratorio anche fino agli inizi diciamo degli anni sessanta quindi vorrei capire se questo termine potrebbe essere steso o perché è scelto proprio al di là delle motivazioni specifiche che ho ritrovato nel paper rispetto alla questione appunto dei guest arbeiter dei guest worker perché il cinquantasette grazie ancora grazie a Claudia ripeto che non vedo iscritti a parlare però anche se qualcuno vuole intervenire in ogni caso può farlo se non c'è nessuno a questo punto darei effettivamente la parola la parola a Giulio per rispondere sulle questioni che sono state poste sì grazie mille grazie mille per per tutti questi consigli osservazioni insomma che sono molto molto utili e ora cercherò di rispondere insomma per quello che posso sono in estrema sincerità devo ammettere che anch'io ho avverto la necessità di definire meglio questo quello che si diceva appunto transnazionale e focalizzazione transnazionale e focalizzazione nazionale perché appunto la mia intenzione era quella di come dire inserire una storia nazionale in un quadro più ampio insomma far vedere come dei processi affrontati appunto a livello bilaterale in realtà si scrivano in una in una logica più ampia perché una delle domande da cui ero partito era anche l'interazione fra livello bilaterale e livello multilaterale perché mi sembra che a volte venga visto in maniera un po' in ottica dicotomica perché ovviamente non sappiamo a livello bilaterale difende diciamo il cittadino mentre quello multilaterale il lavoratore se non addirittura la persona secondo insomma però quindi rispondono a delle logiche differenti però a mio avviso è anche possibile in realtà vedere un'interazione no? ad esempio appunto studiando i lavori degli organi dell'organizzazione internazionale del lavoro si vede come i trattati bilaterali vengano studiati vengano considerati anche nell'ottica appunto di una regolamentazione multilaterale che a volte assume più la come si dice l'aspetto di una regolamentazione quadro più che quasi a voler fare una cornice per gli accordi bilaterali per quanto riguarda il fascismo è vero ovviamente non si può tralasciare appunto nella presentazione sia anche nel paper non ho diciamo come si ha enfatizzato insomma la questione del fascismo c'è un problema di fonti però devo devo dire nel senso almeno per il momento poi io sto ovviamente continuando continuando a cercare per quanto per esempio gli archivi diplomatici ecco quella quella slide non l'ho fatta vedere però negli anni del fascismo c'è una negoziazione molto lunga per la questione della come si dice di definizione post bellica dei confini quindi l'acquisizione delle nuove province porta alla necessità di fare accordi per appunto vengono acquisiti i territori in cui hanno sede istituti assicuratori o con ci sono stati infortuni e quindi c'è la necessità sia con l'Austria sia col regno dei serbi croati e sloveni poi jugoslavia di fare accordi accordi che durano per molti anni avevo messo nelle slide ora non le posso riproiettare però una lettera di un emigrante italiano che scrive direttamente a Ginevra perché dopo sette anni ancora non riesce a ricevere la sua pensione che riceveva da un istituto austriaco ma che dopo la guerra non riceve più appunto per il trasferimento e studiando queste carte si vede anche un'interazione fra ministero delle finanze ministero affari esteri e ministero delle corporazioni ufficio questioni internazionali del lavoro quindi c'è questa si parlava prima di livello istituzionale questa diciamo questo rapporto trilaterale che si ritrova anche nel dopoguerra dove anche nel dopoguerra abbiamo ministero del lavoro ministero delle finanze ministero degli esteri questa interazione però appunto vi sono problemi finanziari che ritardano questi accordi e di nuovo il peso della cittadinanza perché abbiamo l'Austria ma anche la Jugoslavia che diciamo sospendono il pagamento delle pensioni da loro dovute agli italiani come abbiamo risposto quindi si crea questa questione a livello diplomatico poi certo gli accordi con la Germania ho intenzione di sono attenzione sono nella 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 tesi poi adesso ci sono anche quei sono usciti appunto quei volumi molto specifici molto dettagliati molto ricchi sulla mano d'opera italiana italiana nel Reich dove tra l'altro appunto leggevo c'è anche anche notato come la questione del trattamento in Germania viene veicolata come argomentazione per propagandistica per andare quindi come questo tema insomma dei diritti al di là delle frontiere ha una valenza anche anche propagandistica appunto sono grazie per il consiglio appunto della voce degli italiani io avevo considerato anche l'operaio italiano che anche ha delle come si dice delle schede insomma degli articoli a riguardo per il discorso degli italiani in Francia c'è anche l'altra l'altra questione sempre riguardante le fonti dei dell'assenza diciamo delle fonti archivistiche degli enti previdenziali l'Inps appunto c'è l'archivio storico che però essenzialmente verbali è difficile studiare anche io appunto una delle domande che io mi pongo poi che mi sono posta come funzionavano questi accordi effettivamente anch'io me lo sono posta la domanda sulla pratica anche nella relazione l'ho detto come poi vengono effettivamente applicati e per la appunto per il discorso delle malattie c'è qualcosa all'archivio centrale nella busta Inam per appunto i rientri in caso di malattia ad esempio dal Belgio insomma quindi io non considero ovviamente soltanto la Francia cerco di considerare anche gli altri contesti ovviamente non può essere una ricostruzione dettagliata non posso forse il motivo per cui è emersa di più la Francia è che appunto questo aspetto transnazionale che ovviamente è difficile ricostruire tanti casi in un'unica tesi per un periodo per un periodo così così ampio ma appunto grazie anche per il consiglio sulle sulle malattie sulle malattie professionali e io appunto come ho detto attenzione cioè le tesi si occupano anche degli assegni familiari perché nel secondo dopoguerra appunto le carte della CGL per esempio che anche lì emergono appunto con le CGL la carne vive insomma le rivendicazioni rivendicazioni dei lavoratori appunto il tema degli assegni familiari è molto presente anzi forse è quello assolutamente dominante il godimento degli assegni familiari anche per i familiari residenti rimasti nel paese di origine non trasferiti sì no ecco appunto il il rapporto appunto il rapporto transnazionale studi di caso sì che insomma dicevo dicevo in apertura che nasce anche dall'esigenza di appunto l'ottica transnazionale è essenzialmente duplice da un lato appunto è lo studio dei risultati insomma dell'opera di questi di questa organizzazione internazionale del lavoro in un periodo fra le due guerra mondiali che non è stato ricostruito quindi nasce anche dalla volontà insomma di colmare un quello che io reputo appunto un vuoto e che invece mi sembra molto importante anche per capire poi il successivo ma poi anche l'enfasi su per quanto possibile insomma sulle reti appunto dicevo dei riformatori degli esperti degli appunto anche dei sindacati insomma come si crea insomma un patrimonio di pratiche e saperi che poi viene trova espressione nel secondo guerra appunto la questione mi chiedeva perché il 57 come punto come punto di arrivo allora la tesi in realtà nasce con una periodizzazione diversa poi questa periodizzazione è stata cambiata in corso d'opera appunto per vari motivi ora non voglio occupare tutto lo spazio però appunto l'idea del 57 è stata appunto anche per la luce insomma della delimitazione al contesto europeo mi sembrava appunto un buon punto di arrivo sia per appunto il 57 significato che ha nella costruzione diciamo dell'Unione Europea ma anche per questa convenzione europea sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti che appunto mi sembrava un buon un buon punto d'arrivo per per mettere l'enfasi appunto sulla dimensione europea perché invece se l'enfasi viene posta ad esempio sull'organizzazione internazionale del lavoro non è il punto di arrivo giusto perché allora avrebbe più senso appunto il 52 con la convenzione sulla sicurezza sociale o addirittura il 62 con quella sull'eguaglianza di trattamento per la sicurezza sociale ma appunto come dire grazie anche per i consigli terminologici appunto continuità domiciliazione residenza sì perché appunto questo tema della residenza mi sembra mi sembra centrale perché anche in questi testi multilaterali si nota il progressivo slittamento verso un una titolarità basata sulla residenza sul territorio già nella convenzione del 35 il il la titolarità è prevista sia per i cittadini dei paesi membri che hanno ratificato ma anche per i residenti in un in un paese membro dell'accordo che è una formulazione abbastanza ampia per racchiudere anche determinate categorie ma poi anche nel 52 quella sicurezza sociale al suo centro del concetto di residenza io spero di di aver risposto a tutto non so sì risposto penso che abbia anche recepito alcuni punti come dire un po' controversi che le sono stati sottoposti sia dal discasso in Colucci che da da Claudia Bernardi credo che se non c'è nessun altro che si è iscritto a parlare o se Colucci vuole aggiungere qualcosa o Claudia Bernardi in caso sì Michele Colucci no 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 era solo per dire insomma tutto ok poi ci ritroveremo e discuteremo insomma grazie allora io a questo punto ringrazio tutti ringrazio Giulio Francisci Michele Colucci e Claudia Bernardi per questa prima presentazione della ricerca dei dottorandi di storia e facciamo una pausa siamo in perfetto orario quindi facciamo una pausa di 5 minuti e alle 16 e 5 ci ritroviamo qui grazie a tra pochissimo grazie Grazie a tutti. 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 Andrea, Andrea. Grazie a tutti. 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 tutti. Grazie a 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 tutti.